La conferenza dei sindaci di Aria Vasta 1 chiede al presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, di ridiscutere il piano strategico di riorganizzazione sanitaria. L'assemblea che si è riunita oggi a Urbino non ha eletto il presidente della conferenza perché non è stato raggiunto il numero legale, ma i 27 sindaci presenti alla seduta hanno aperto un'ampia discussione sulla sanità. Tutte le scelte devono essere condivise da tutti i sindaci. Il tema del nuovo ospedale, dell'organizzazione sanitaria non può riguardare solo due città, ma deve riguardare tutto il territorio provinciale. Per quello che riguarda Fano ci sono troppi aspetti che non ci convincono e quindi noi vogliamo entrare nel merito della questione. Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, presidente protempore della conferenza, ha avuto il mandato di esporre la posizione dei sindaci al presidente Ceriscioli ed invitarlo come assessore regionale alla sanità alla prossima riunione prevista per la prima settimana di dicembre. Netta su questo tema è la posizione del primo cittadino di Pergola, Francesco Baldelli, sempre in prima linea nella difesa della sanità e dell'assistenza ospedaliera dell'intera provincia. Baldelli non accetta il depotenziamento e la chiusura degli ospedali. Netta la posizione perché qui stanno distruggendo con le linee che oggi dovevamo discutere in conferenza di sindaci, che poi ha avuto una fumata nera, stanno distruggendo completamente con gli obiettivi che si è fissata la regione per il 2015 la sanità non di Pergola o dell'entroterra, stanno distruggendo la sanità della nostra provincia. In maniera particolare con la bufala dell'ospedale unico stanno distraendo le nostre comunità per distruggere l'ospedale di Fano, porre i presupposti per il depotenziamento dell'ospedale di Urbino e chiudere l'unico ospedale dell'entroterra che è rimasto quello di Pergola, dopo aver chiuso Fossombrone, Sassocorvaro e Cagli. Un no secco all'ospedale unico che ha chiuso già gli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, una riproposizione di un piano sanitario cancellando l'esistente che non solo riapre gli ospedali chiusi ma che potenzi anche gli esistenti affinché Pergola, Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro possano fare rete insieme a Durbino, Fano e non distruggendo anche la sanità pesarese perché se lasciamo un solo ospedale creeremo un imbuto e quell'imbuto verso l'ospedale di Pesaro non sarà più nemmeno sufficiente per garantire l'assistenza ospedaliera ai pesaresi. Ovviamente ricordiamo che Fano ha un ruolo cardine in questa nuova razionalizzazione o valorizzazione degli ospedali sul territorio, dovrà essere un punto di riferimento.